Nonostante le rassicurazioni di Regione Lombardia, sul Morelli tira ancora brutta aria. E questo seppure vi sia un impegno scritto della Giunta regionale a riportare appena possibile al Morelli le alte specialità che la pandemia aveva fatto traslocare ormai più di un anno fa a Sondrio. Ad esprimere moltissime riserve su quello che sarà il futuro dell'ospedale di Sondalo è l'avvocato Ezio Trabucchi, ex sindaco di Valdidentro e fondatore del pool giuridico a difesa dell'ospedale Morelli. La Regione Lombardia infatti ancora oggi non ha manifestato, perché non l'ha ancora predisposto, sempre che ci sia una vera volontà, un programma definito che prende in considerazione gli spazi da allestire e ricostituire al Morelli, le risorse umane e tecnologiche ed un conseguente e rigoroso cronoprogramma. La Regione Lombardia in questi giorni ha fatto solo un accenno generico ad una progressiva ripresa delle attività del Morelli solo in alcuni ambiti. Trabucchi mette sull'attenti, su diversi aspetti che lascerebbero intendere, un riavvio delle attività ben lungi dall'estere quel ritorno all'operatività pre-Covid per il Morelli di Sondalo. Non si parla di riapertura di quei reparti troppo repentinamente disattivati e trasferiti per l'emergenza Covid-19, ma si fa riferimento semplicemente ed unicamente alla ripresa di attività che risultano poco significative per le incombenti esigenze sanitarie d'Alta Valle. Si tratta infatti di attività programmate, limitate ad alcune specialità, che interessano i giorni feriali. Già ora, ma anche andando di questo passo, non vi sarà nulla delle dotazioni che la legge impone per una struttura ospedaliera, anche zonale. Di fatto l'impegno e l'attività sull'urgenza va a ricadere su Sondalo, che è un presidio assolutamente inadeguato, oppure su strutture fuori province. Insomma, stando così le cose, se non verranno fornite al più presto chiare certe indicazioni fondate su fatti concreti, non c'è da sperare nulla di positivo per il futuro del Morelli di Sondalo. Il timore fondato per Trabucchi è che il Morelli si trovi ridimensionato alla stregua di un ospedalino di base, inadeguato tanto alle esigenze della popolazione dell'Alta Valle quanto a quelle dei 3 milioni di turisti che ogni anno la scelgono per le proprie vacanze. Il timore, in definitiva, è che a fronte delle continue generiche ed anche inconcludenti rassicurazioni di fatto Regione Lombardia stia attuando i contenuti del piano del Politecnico, che è un piano che prevede lo smantellamento in maniera strisciante e costante del Morelli in attuazione di un disegno, per me con forti interessi economici in gioco, che parte da lontano. Trabucchi, pur denunciando la brutta aria che tirerebbe ancora sul futuro del Morelli, da buon valtellinese non si dà tuttavia per vinto. Sul Morelli potrebbe non essere ancora finita se avessimo tutti più unità, più coraggio, più determinazione, lasciatemi anche dire se fossimo più consapevoli delle nostre possibilità e capacità di gente di montagna.